Bellissimo posto, bellissima serata, un pubblico molto più simpatico dell'autore, è stata veramente una serata molto piacevole, grazie a tutti. È un racconto a più voci su un po' le relazioni di questo nostro periodo storico. 40-50 anni un po' nevrotici e lunatici. Io sono venuto diverse volte da Grigento, ma in posto di Così non ero mai stato e fate benissimo valorizzarvi perché è stata una serata molto bella, secondo me anche proprio grazie a questo posto qui. Smetto subito se vuoi. Grazie a tutti.